Oggi è stata una partita dura, difficile, molto di più forse da quello che pensavamo, però noi siamo rimasti sempre concentrati, uniti, alla fine con grinta, sempre con difesa prima, come il nostro sistema di gioco, con la nostra forza, siamo riusciti a portare questa vittoria a casa, quindi contento, poi personalmente ho avuto grazie ai miei compagni, ho avuto una bella partita e questo mi dà fiducia per crescere e ringraziare anche il coach che mi ha dato i minuti e piano piano mi trovo sempre di meglio con le squadre. Sì, sì, una squadra temibile, l'hai detto te, una squadra che con molta voglia di fare bene in campionato, quindi noi dobbiamo stare già a cominciare a allenare, forse non domani, ma appena rientriamo da questa piccola pausa e stare concentrati al 100% nei loro giochi e sapere cosa ci aspetta, però niente, noi sempre pensiamo prima a noi e proviamo di giocare come alleniamo tutti i giorni, con l'ideologia del coach e così siamo riusciti fino ad adesso a portare tante vittorie a casa, quindi continuare così, penso che siamo sulle strade giuste, continuiamo a lavorare con questa fiducia e con questa squadra che è molto unita e penso che faremo bene.